Buongiorno amici di Daily! Oggi iniziamo grigliando delle salsicce marchigiane che ci ha portato il buon Sik Vero che sono buone? E ragazzi comunque io continuo ad apprezzare il fatto di avere un pavimento Guardate che ho portato dentro la moto lì Comunque qua stanno sfrigolando, è venuto Sik con suo cugino Qui abbiamo il pavimento, non ve l'avevo ancora fatto vedere, guardate possiamo camminare fino in fondo Guardate qua, qua c'è il tombino Abbiamo la notizia, giovedì vengono a portare la terra e teoricamente sabato o domenica piastrellano invece fuori Quindi forse questo fine settimana ragazzi prende forma la parte esterna, anche senza l'erba o quello che è Ehi, buongiorno Kuma, ti pulisci da solo l'orecchietto? Ti sei stufato di fartelo pulire da me? Eh? E hanno anche finito di fugare, ci sono le fughe nere sulle piastrelle nere Adesso ovviamente sono ancora sporche E invece le fughe bianche su quelle bianche Qua c'è il parasfigoli Poi andrà verniciato, guardate questo è il risultato senza tutti i cosini distanziatori Sarà un dito nel tenere pulito questo Però, raga, mi piace tantissimo, fa un effetto assurdo C'è anche un riverbero allucinante qua dentro adesso Comunque quando vengono qua, tutti a provare il simulatore Va va, che vandalo! Stavolta Dove vanno? Dopo vuoi riprovare anche tu, Sik? Un giro sì, oggi non inviarlo Un giro lo faccio Comunque ragazzi sarà un caso Ma a Ivi piacciono davvero tanto queste piastrelle Cioè, di tutta la cucina, di tutta la casa, eccetera Si mette sempre lì sopra, al centro e poi ci guarda È bello che scivola, guardate la zompina che si sposta E non vale nemmeno dire che questa è più fresca di questa Perché la piastralla vecchia è più fresca Se è il pacco che penso io Qua dentro ci sarà qualcosa di molto carino Oh sì Oh sì Ivi, abbiamo la fotocamerina proprio per te Delle tue dimensioni Non la distruggere prima di aprirla Direi di aprirla Ok Tutto qua sono curioso di provarla Perché l'avevamo vista appena era uscita Ci ha lasciato un po' perplessi Dei pro e dei contro Voglio studiarla Ok Apriamo, eccola qua Sembra le Airpods Esatto, sì È veramente piccola Così Avete visto come si fanno gli unboxing? Anni e anni di esperienza qua È piccolissima Non sembrava Cioè C'è la mia parte preferita Non sembrava così piccola Ragazzi guardate che roba Cioè Gli adesivi No, non si meritano niente quelli di Insta Che piccola Non pensavo che fossero tutti accessori ragazzi Cioè pensavo andassero comprati a parte Questa è per la ricarica E si può caricare tramite l'iPhone Direttamente con il connettore Lightning Così Oppure con una micro USB qua dietro In realtà speravo fosse USB-C Però vabbè Cambia poco Questo È fichissimo Perché si può attaccare sul casco O su una visiera O qualcosa E averla diretta Ho visto che la utilizza Alberto Per i suoi video È fichissimo Questo Per averlo con l'attacco da treppiede Questo qua è per attaccarlo così E avere tipo una basetta se serve Quindi poterla portare in giro velocemente Questa è tipo una collana Che va appesa al collo Tenuta dentro la maglietta E poi si attacca magneticamente Quindi Vedete Così Potete avere il POV dal petto E questo invece È semplicemente un adesivo Che funziona allo stesso modo Quindi potete attaccarlo dove volete E questo resta così Assurdo Com'è questa plebeata Non l'ha mai fatto Ma Ivi T'ha posto? T'ha posto? Chiedo ancora scusa per i pavimenti ragazzi Sono passati anche oggi Muratori a fare il giardino Per fortuna Ivi mi aiuta a pulire in terra Ha preso lo straccio E ora lo passa sul pavimento Grazie Ivi Allora Piccoli patatini Noi andiamo a prendere le piastrelle Che piacciono tanto ai Ivi Ma deve ancora abituarci Sì un po' E vediamo se riusciamo a portarle Tutte quante con le macchine Più che altro per risparmiare un po' di tempo Vediamo se riusciamo a fare un solo viaggio Con due macchine Anche oggi siamo qui a vedere i vostri cuccioli Sia cani, gatti Di qualunque genere Basta non umani E iniziamo da Daniel Si chiama Selly Selly ha 10-11 mesi È una trovatella Trovata con uno scorcio sulla zampa No piccola E come ho visto Ho costato mia madre a prenderla Intanto Complimenti Grazie E complimenti È una cannellina dolcissima È molto tranquilla Quando è in casa Mentre fuori è un po' un toro Vabbè Meglio così Meglio che faccia casino fuori Che in casa È come Ivi Anche se Ivi è tante volte un turbine Anche in casa Poi se volete vi spiego un po' anche il motivo Con il quale abbiamo effettivamente Ok va benissimo Madonna quante foto che ci ha mandato Allora intanto le piace fare il bagno Che bella Sembra che ci abbia una punta di labradoraggine Guardala Guarda che scemina Oh è venuta bene in tutte le foto Guarda questa Guarda quella dopo Guarda quella dopo Me lo dai un pezzetto Di mela Secondo te Non lo so Lo so che sono parecchie Poi se vi capo Devi mettere qualche foto nei video Scegliete quella che vi sia la più bella Va bene Va bene Grazie mille E qua c'è anche il video Oh Hai visto Che bastone grande che è Tu devi vedere Trilli Quando prendeva dei bastoni Ma enormi Cioè tipo lunghi così E lei era Cioè era così Lascia E quindi tipo Prendeva un petto del bastone E poi era tutto il pezzo enorme fuori L'ultima che vi ho mandato La adoro E non si vede Esatto Rimandacela se vuoi La guarderemo volentieri Allora Il prossimo è Manuel Che ci manda Vediamo Il suo Anzi I suoi due cuccioli Il gatto Il cane Che stanno guardando i nostri video Stanno guardando Ah il video della zampa Che piccola che era Evie La rivolgiamo così Ragazzi Facciamo una petizione Vendiamo Evie E ne prendiamo un altro di nuovo cucciolo Guarda Guarda È già cresciuta troppo E come guardano interessati però Oh Kuma e Evie comunque fanno l'effetto della d'urso ai signori di mezza età Grazie mille per averci mandato i tuoi cuccioli Questo è Nicolo Easy Scritto proprio I-S-I Oh Murino Guarda che musino Che piccolo Assetta E lì è un po' più Più grande Allora qua c'è Un profilo che sembra quasi dipinto Sì Qui è già più grande E quello è quando era Cucciolino mi sa Sembra un peluscino Guarda che bellino 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 Sì sì carino Complimenti Gli stava bene il nome Easy Stava bene il nome Easy Sì 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 Lei è Kira Nove anni vecchiotta ma ugualmente bellissima No non si vede Riesci a mandarcela Ludovica se riesci a rimandarcela Allora la rivedremo tra domani Probabilmente dopo domani Puncio Cinque mesi Cinque mesi Quindi è un cucciolotto Vediamo Sarà enorme o sarà piccolino Piccolo E insomma Un matto Rapigiro Guarda Questo è un decuplo Rapigiro Che bellino Con la macchietta nera Mi ha messo un sacco di buon umore Femmina si chiama Kira Ok Amore È una shibina Che carina Sembrano degli Akita in miniatura Ah ragazzi Comunque dice che è un tuo fan Pier Grazie Pier Comunque se sentite rumori È sempre perché stanno finendo Il bagno Amore Questo è un pincerino Sì un pincer Marco ci ha mandato la foto Cioè non ci ha mandato il nome Guarda che faccina sveglia Anche qui da Dimmi Sono al tuo servizio È arrivato anche lui Ha detto State facendo troppi complimenti Ad altri cani Voglio esserci anch'io Vuoi vederlo anche tu? Eccolo qua Viene anche Kuma A vedere Qualche cucciolo con noi Magari ti troviamo la fidanzatina Anche se non c'hai più le palle Comunque molto carino E simpatico Franz Naturalmente indovinate Chi è la padrona di casa Nella foto c'è anche Sparchi Labra donno nero Oramai Pascola No Eccolo qua Come promesso Vi invio le foto Dei miei due Amstaff Ziva Due anni E Zeus Un anno Quindi saranno enormi Del persiano Della mia compagna Zoe Otto anni Ok ok Vediamo Bello Molto bello Qua era ancora cucciolo Mi sa però Aiuto C'è Kuma che mi sta sfondando Amore Ha un musino ad un dolce Lo adorerebbe tua sorella Per questo musino qua A parte che tua sorella Commette che adora tutti i cani Mi ricorda molto il cane Che aveva un mio amico Eccoli Infatti guarda Che è più cresciuto qua Che fierezza Che bellini che sono Che bellini che sono Un muso stradolce È una lei figa E un lui dolce Esatto Ave otto anni E però sembra cucciola Sì sì Ma perché alcuni gatti Rimangono super cucciolosi Carina Femminuccia Sai perché si capisce Che è femmina Perché ha tre colori Vedi Arancione Nero E bianco Questa cosa non lo sapevo Cosa vuol dire Cos'è sto razzismo Tutti i gatti tartarugati Sono Questo non è tartarugato Perché tartarugato Vuol dire che c'ha tipo Della parte tigrata Però tutti i gatti Che hanno tre colori Sono femmine Ok È una cosa genetica Che carina Ma perché mi stai facendo questo Guarda comunque che bel taglio d'occhi Che ha Ecco È un po' meno contenta O contenta No contenta era Giusto Oh che belli Comunque tutti insieme così E lui che non c'è più Mi dispiace Come umore Eccola lì Grazie ancora a Franza Di averci mandato A tutta la tua famiglia A quattro zampe Ultimo della giornata Alessio Che ci manda da sinistra Quindi della più piccola Alla più grande Zoe Xenia E Zara Vai Quindi due anni Sette e undici anni Vediamo Vediamo Tutti i pastori tedeschi Guarda che Guarda che orecchiette Cazzo Io sono una giovane femmina Le altre fanno sì Vabbè Io inizio a essere stufa E questa fa Voi non avete idea Di quante ne ho vissute io E quanti ne ho viste io Nella mia vita Pivelle Comunque ragazzi Grazie mille per averci mandato ancora le foto Vi ricordo di mandarle su Instagram Daily46YT Non nei nostri profili privati Lo trovate in descrizione Ricordatevi che siamo ancora A 99 richieste Sì Noi stiamo vedendo quelle del primo giorno Praticamente ancora Magari vedremo di farne Un episodio un po' più lungo Dove li vediamo O magari li vediamo in live E poi carichiamo il video Non lo so Ne approfittiamo comunque Per ricordarvi di iscrivervi al canale Mi raccomando Ivy Ciao piccola La mamma si è dimenticata Le chiavi Dove aspettare il papà Che è andata a prenderti la papà Piccola Ivy Amore Guardate che carina Piccola No 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 Ivy Oh cara Oddio Che carina Amore Sì ragazzi il vetro è sporco Ma sapete che hanno appena fatto i lavori fuori Oddio Amore Ivy Ivy Cogliamo anche l'occasione per farli mangiare fuori ragazzi Guardate che bellini tutti e due Uno E l'altro Ivy è anche stata brava Aspettato Adesso stanno mangiando E dobbiamo mangiare anche noi Tornati vittoriosi da Bricoman Ma senza piastrelle Abbiamo ordinato tutto quanto Quindi battiscopa Piastrelle E anche quelle grandi Che sono queste qua 180 per 80 Costano un botto ragazzi C'è 114 114 Sono due piastrelle Infatti come potete vedere Sono 230 di 4 piastrelle Non le abbiamo portate a casa Però perché abbiamo fatto il pagamento Con la detrazione al 50% Quindi Dovrà arrivare il bonifico a loro E poi possiamo andare a ritirarle Ragazzi ma può romperle Ragazzi ma può rompergli le balle Tutti i giorni A qualsiasi ora Lascialo stare Guardatela Che esce lì Tipo demonio Gli stava Gli stava mordicchiando Fino a un attimo fa Adesso abbiamo iniziato a registrare E si è fermata E si mette lì Guardate come sono brava Usciamo tutti e tre? Quattro? Cioè usciamo tutti e quattro? Eh? Andiamo a prendere un gelatone? Sì? Non so se sia il caldo O Ah però Ivi lì fai male Devi stare attenta Non so se sia il caldo O meno Ma Ivi è tornata Dai se l'attiva la sera Eh? Sì Il giorno Eh vai Il giorno dorme Vai a quello lì nello specchio Eh un cane cattivo Quello nello specchio Vai Ivi Papà no aiuta Non è più serio Abbiamo Tolto la barriera Che c'era qui Nel frattempo Che asciugava E Il re È già Nel suo habitat naturale Com'è il bagno Con questa piastrella Infinto mammo Infinto nero di Marquini E infinto bianco Carrara Eh? Com'è elegante Andare via con Kuma E Ivi È impossibile Perché tutti ti fermano E ti chiedono Ma che ragazza è Ma è carinissimo Ma è bellissimo Cetera Comunque siamo venuti qua All'albero dei gelati A Serenio È una gelateria Molto molto buona Ce n'era una anche a di sole Veramente buona Se siete in zona Ve lo consiglio Per chi non lo sapesse Il condrogen È ancora una delle cose Che Ivi ama di più Ivi giù Ivi Giù Zampa Vieni Mamma mia Che buona Medicina Buonissima Buonanotte Dalla lupacchiotta Nella sotana Ciao È finito Ah comunque Volevo anche Aggiornarvi su una cosa Ho rimpacchettato tutto Perché Proprio da stupido Mi sono accorto Dopo di aver ordinato La Insta360 Prima versione In realtà Volevo la 2 Ma non mi sono accorto Quando l'ho ordinata E ho preso la 1 Che purtroppo Ha Una qualità Video Totalmente diversa Rispetto alla 2 Quindi Mi sa che farò il reso Ehi E tu cosa fai qua Farò il reso E Ivi Vabbè No ma Ho capito Volevi un po' di attenzioni Bastava chiederlo Comunque Ragazzi Buonanotte E notte anche Il comiro più carino del mondo Ciao